Andrea Iannone e Belen Rodriguez? È finita la loro storia d'amore. Circa due anni fa Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono messi insieme. . Tuttavia proprio in queste ultime ore è circolata una notizia, che ha fatto molto preoccupare i rispettivi estimatori. Cosa è successo? In pratica, in base ad alcune voci di corridoio raccolte dal portale TGCOM24, pare che i due stiano affrontando una crisi. Cosa è una crisi che potrebbe portare Belen e Andrea Iannone alla rottura? In effetti è da tanto che i due piccioncini non si mostrano insieme sui social. Proprio lo scorso weekend Belen Rodriguez è andata a vedere il concerto di Fedez, e i Lunga AX insieme a degli amici, ma senza il fidanzato storico. Un altro importante indizio su una loro eventuale crisi è che Belen non si sia presentata a Gran Premio del Mugello per sostenere il suo compagno. Un altro importante indizio su un'amici, ma non si sia presentata a Gran Premio del Mugello per sostenere il suo compagno, ma non si sia presentata a Gran Premio del Mugello per sostenere il suo compagno. Al momento né Belen Rodríguez né Andrea Iannone hanno confermato o smentito tale illazioni. . Tuttavia i loro rispettivi fans sono già riversati sulle loro pagine social per chiedere se davvero stiano affrontando una crisi o meno. Ci saranno presto news a tal proposito. Verrà mai fatta chiarezza su questa intricata faccenda? Intanto pare che Belen Rodríguez tra qualche giorno tornerà in tv insieme a Hilary Blasi, Nicola Savino e la Jalappas per condurre la trasmissione dedicata ai Mondiali 2018. . Come se la caverà in questo nuovo ruolo? .